Il CREA di Pescara, centro di ricerca, ingegneria e trasformazioni agroalimentari, capofila di uno progetto unico per certi aspetti, che per la prima volta analizza direttamente dalla produzione, non solo dai laboratori, lo stato di salute delle olive italiane da tavola. Un lavoro durato quasi quattro anni che ha portato il CREA di Pescara ad essere punto di riferimento nazionale, tanto da ottenere dall'amministrazione uno dei più corposi finanziamenti, oltre un milione di euro. Risultati illustrati oggi in un convegno per addetti ai lavori al mercato ortofrutticolo di Cepagatti, con oltre 100 partecipanti da tutta Italia e che al di là dei tecnicismi ci consegna notizie confortanti, anche se c'è molto ancora da fare. Abbiamo analizzato in campo, presso realtà operative, numerose tipologie di olive, sia dal punto di vista produttivo, sia dal punto di vista fermentativo e anche dal punto di vista igienico-sanitario, nonché sensoriale. Lo stato delle olive italiane è uno stato buono, l'oliva si conferma un prodotto salubre per l'assenza globale generalmente di patogeni e di micotossine, quindi di per sé è un prodotto molto salubre e questo progetto mira soprattutto a migliorare la qualità produttiva e ad incrementare l'appetibilità del prodotto. Ecco, da questo punto di vista l'Abruzzo è nella media nazionale? L'Abruzzo vanta alcuni grandi produttori di olive, tra cui Madame Oliva Carsoli e altre piccole realtà che comunque si sono affermate moltissimo, specialmente nell'ultima competizione dell'Ercole Olivario aperta alle olive da tavola. Ci sono state delle aziende anche di Casoli ed è comunque del Chietino che si sono affermate prendendo prestigiosi riconoscimenti.